Sono stati tutti effettuati riscontri autoptici disposti dalla procura di Ancona che si sono conclusi nella tarda serata di ieri e da oggi è arrivato il momento degli ultimi addie alle vittime della tragedia di Corinaldo. Per la fanese Benedetta Vitali il funerale si terrà nella giornata di sabato 15 dicembre alle ore 9 e 30 presso la nuova chiesa di Gimarra di Fano con partenza dalla camera mortuaria del Santa Croce alle ore 9. Tra oggi e sabato però si terranno i funerali di tutte e sei le vittime a dover sopportare il carico emotivo più pesante sarà la città di Senigallia che piange ben tra i suoi concittadini e come ha detto il sindaco Mangialardi saranno tre giorni di lutto per i quali abbiamo spento il Natale ed annullato tutti gli eventi legati alle festività. Oggi è stato il giorno di Emma Fabini 14enne sempre di Senigallia in una chiesa del portone gremita di amici conoscenti e fiori presenti anche lo stesso sindaco ed il vescovo Manenti assieme a tanti adolescenti con ancora sulla pelle i segni della tragedia. Domani invece sarà la volta di Daniele Pongetti di Senigallia la cui funzione verrà celebrata in cattedrale alle ore 15 e sempre domani a Marotta la chiesa di San Giovanni alle 15 accoglierà invece la salma di Asia Nasoni anch'essa però studentessa a Senigallia e domani un'altra comunità sconvolta quella di frontone dovrà dare l'ultimo saluto a Mattia Orlandi alle 14 e 30 nella chiesa del cuore immacolato ma sempre a Senigallia ci sarà il funerale della mamma 39enne nella basilica di piazza Garibaldi alle ore 9. Se da un lato si stringono i cuori per l'ultimo saluto alle povere vittime da un altro si allargano sentendo i bollettini positivi dell'ospedale di Torrette dove un paziente che era stato trasferito in un reparto per acuti è stato dimesso nelle ore scorse. Pertanto sono scesi a sei pazienti ricoverati negli ospedali riuniti, tre pazienti si legge nel bollettino medico sono ancora presso la terapia intensiva di cui uno solo in ventilazione assistita ma sveglio. Tutti mostrano segnali di un progressivo miglioramento ma al momento la prognosi però resta prudenzialmente riservata. Altri tre invece sono nei reparti per acuti e solo per uno di loro i sanitari si sono ancora riservati la prognosi.